La Turris torna a far punti in casa grazie al pareggio 1-1 contro il Teramo a Liguri. La squadra di Mister Fabiano si presenta in campo con Signorelli e Longo dall'inizio, ma sono gli ospiti a creare le migliori occasioni del primo tempo. Già nei minuti iniziali, prima Ferreira che da fuori costringe a Bagnale a deviare in angolo, poi Bobbaci su punizione sfiora la traversa. Gli abruzziesi lasciano pochi spazi e l'unica occasione per i padroni di casa viene sprecata malamente da Pandolfi. La svolta arriva al ventesimo quando Santoro entra in aria, supera la difesa e insacca con un diagonale che non lascia scampo al portiere Corallino. Dopo l'intervallo la Turris appare più propositiva e trova il gol con Longo, ma l'attaccante era in fuorigioco. Il pareggio però arriva a metà di presa, lancio lungo di Signorelli, sponda di Pandolfi che trova Giannone, che a tu per tu con Lewandowski non sbaglia. I Terramani a questo punto si riversano in attacco, ma a Bagnale è super sul tito venenoso di Mungo. Finisce in parità e per la Turris è un ottimo punto guadagnato in ottica salvezza. I Corallini ora mantengono 9 punti di vantaggio sulla zona play-out prima della difficile trasferta sul campo della lanciatissima Ternana.